Adesso sta perdendo. Attenzione, attenzione, c'è un nuovo attacco di Pantani ma Tonkov si riporta prontamente nella scia del Romagnolo. Forse ce la fa, attenzione, attenzione, è il momento decisivo, Pantani scatta, Tonkov si è seduto, l'ennesimo, l'ennesimo scatto è stato decisivo. È stato grande, Pantani adesso si accorge, è naturale che si accorge che Tonkov è in difficoltà, ve l'ho detto, è una tappa lunga, 240 km, da un momento all'altro uno può entrare in crisi e può perdere anche 20-30 secondi al km, è in netta difficoltà adesso Pavel Tonkov. Pantani, Pantani scatta ancora, Pantani lanciando verso non solo la vittoria di Tappo ma verso la vittoria del giro. 13 gennaio 2022, oggi sarebbe il compleanno di Marco Pantani, 52 anni, è un mito del ciclismo italiano e mondiale, vedendo la carriera ciclistica di Marco Pantani, detto il pirata, ha avuto solamente due anni senza infortuni o senza problematiche di vario genere, ovvero il 94 e il 98. Il 94 è il primo anno da professionista che ha fatto, anche se esordì poi a fine 93, molto giovane, aveva 24 anni, ma il culmine della sua carriera ciclistica l'ha raggiunto probabilmente tra il 98 e l'inizio del 99, dove era veramente il più forte. E noi, essendo il compleanno di Marco, abbiamo pensato di fare gli auguri alla nostra maniera, vero Luca? Esatto, in maniera abbastanza originale, speriamo che lui dalla sua apprezzi, dai. E questo è quello che ci è venuto in mente. Quanti punti avrebbe fatto Marco Pantani se Fanta Cycling fosse esistito nel 1998? Come ho detto precedentemente, la stagione clou di Marco è il 1998, dove ha vinto Giro e Tour de France nel solito anno, ed è stato l'ultimo atleta a farlo, la doppietta. E quello lo mette nella leggenda, diciamo. Nella leggenda, nell'Olimpo del ciclismo, soltanto pochissimi ci sono gli usciti. Detto questo, come inizia il 1998 di Marco Pantani? Inizia con delle gare in Spagna, di seconda fascia, e poi arriva la Guelta Murcia. Guelta Murcia, che era una gara al tempo di alto livello, non c'era la classificazione UC World Tour, UC Pro Series. Non è la Guelta Murcia di adesso, dai. Assolutamente no. La vinse Alberto Elli su Vinokurov e Marco Pantani, terzo. Marco Pantani, che in quella Guelta Murcia comunque vinse la semi-tappa 4. Noi abbiamo classificato la Guelta Murcia come se fosse una gara di categoria 4, quindi arrivò terzo in generale, partecipazione 10, vinse il COM, quindi 8 punti. Questi sono in totale 353 punti che realizza la Guelta Murcia. Poi successivamente va al Giro del Trentino, dove combatte a livello sportivo contro Paolo Savoldelli, che vincerà quel Giro del Trentino, e Pantani lì stava cercando di trovare la gamba per poi vincere o comunque partecipare al Giro d'Italia, che era successivo. Il Giro del Trentino, che oggi giorno si chiama Tour of the Alps. Tour of the Alps, che abbiamo deciso, rispettando quello che è adesso, di escludere dal punteggio. Sì, abbiamo deciso di non metterlo perché è una pro-series e quindi, anche se il Giro del Trentino nel 98 aveva un parterre de rua di alto livello. Ricordiamo Gotti, Savoldelli, Frigo, eccetera, eccetera. Detto questo si arriva al Giro d'Italia, 1998. Un Giro spettacolare. I favoriti erano Gotti, vincitore del 97, Tonko, vincitore del 96, Zulle, grande atleta di quegli anni, e Marco Pantani. Erano questi i quattro principali favoriti. Cosa è successo al Giro d'Italia del 98? Eccola qua. Dobbiamo vedere. Pantani realizza 2.012 punti, vincendo due tappe, la tappa con arrivo a Piancavallo e la tappa di Plan di Montecampione, che è storica. Come tutti gli scalatori, inizia il Giro in tranquillità. Cercando di stare al riparo dalle cadute. Dalle cadute e dalle infortuni, che hanno caratterizzato poi la sua carriera, diciamo, pre-99. Ricordiamo nel 97, Pantani era uno dei favoriti, arrivava da un bruttissimo infortunio, ha corso la Milano-Torino del 95, aveva recuperato tutta una stagione e mezzo dall'infortunio, ritorna nel 97, cade nella tappa di Cava dei Tirreni al Giro d'Italia, e quindi si ritira, poi tornerà al Tour de France nel 97, vincendo le due tappe, tra cui la tappa spettacolare e l'Arc du Hetz. Il 98 è l'anno del ritorno, l'anno top di Marco Pantani. Tappa 6, si inizia a vedere il vero Marco Pantani, la tappa con arrivo al Lago Laceno, però qua è Zulle che fa il fenomeno, perché recupera Bartoli e Pantani sulla salita di Lago Laceno e li stacca giusto prima del GPM e poi si invola verso la vittoria, rubando la maglia rosa a Michele Bartoli. Con circa 30 secondi, se non mi ricordo. Sì, e quindi Pantani già lì rilascia un po' di dichiarazioni che, cavolo, Zulle è l'uomo da battere. Poi cosa succede? Nella tappa di San Marino prende la maglia Noè, che vince la tappa, e Marco attacca sulla salita finale, giungendo secondo al traguardo, infatti prende 100 punti di tappa. Poi la tappa di Schio, la tappa di Schio dove c'è il passo di Zuovo, una salita abbastanza difficile, lì si iniziano già a vedere le prime difficoltà di Ivan Gotti, Pantani fa selezione, Zulle e Tonkov li restano a ruota, scollinano insieme, poi cadono sia Zulle che Pantani, cadono praticamente tutti in quella discesa, poi la tappa la vincerà Michele Bartoli, Tonkov prende un po' di vantaggio in quella tappa, e lì si iniziano un po' a vedere le difficoltà di Zulle nel guidare la bicicletta, comunque cade anche Pantani ma senza problemi. Conseguenze. Poi arriva la tappa di Piancavallo. Piancavallo dopo il primo show di Pantani, anche se nella tappa di Piancavallo non dà grandi distacchi, né a Tonkov né a Zulle, che arrivano a una ventina di secondi, quindi sì, Pantani stacca tutti, però rimane sempre... Comincia a far vedere quello che poi succederà. Però Zulle diciamo non perde i colpi, ecco, rimane saldamente in testa la classifica. Comunque alla fine della tappa di Piancavallo indossa la maglia verde per la tappa successiva, che è la crono di Trieste, dove Zulle qua domina assolutamente, rifila tanti minuti a Marco Pantani, e qua si pensa che il giro sia praticamente chiuso, quasi. Si vede che Zulle magari in salita non è un fenomeno, ma considerando che c'è anche la crono finale di Lugano, si pensa che non ci sia niente da fare. Gli basterebbe giocare in difesa. Però nella tappa di Selva di Vargardena assistiamo a un'azione leggendaria. Pantani attacca Malga Ciappela, il tratto più duro della salita della Marmolada, insieme a Beppe Turbo Guerini, stacca prima Tonkov e precedentemente stacca anche Zulle, Zulle in crisi nera, dopo la salita della Marmolada c'era da scalare il passo Sella, poi arrivo in discesa a Selva di Vargardena, dove Marco Pantani in questa tappa fa bottino abbastanza pieno, diciamo, arriva secondo dietro Beppe Turbo, prende 17 punti com, 8 allo sprint intermedio tra la Marmolada e il passo Sella, 11 punti fuga, conquista la maglia rosa, quindi 20 punti maglia rosa e tiene anche la maglia verde. Quindi Marco Pantani è il primo giorno, finalmente dopo 4 anni e mezzo da professionista, che indossa la maglia rosa, un giorno leggendario. Nella tappa successiva Alpe di Pampeago non riesce a staccare Tonkov, arriva secondo e qui si capisce che Zulle probabilmente non sarà più il rivale per le ultime tappe, ma è Tonkov il rivale, che rimane lì a pochi secondi dalla maglia rosa e vince la tappa. E quindi la tappa successiva, Cavalese, Plan di Montecampione, è la tappa decisiva per decidere il giro di taglio. Lì si dovrà rifare. E questa tappa è semplicemente leggenda. Poi nella descrizione del video troverete tutti i link per riguardare queste tappe che sono veramente memorabili. Tutti quelli che ci siamo riguardati anche noi. Ci siamo riguardati anche noi. Io sono degli anni 80, nato negli anni 80, quindi ho vissuto, avevo una decina d'anni, il 98 di Marco Pantani. Te, Berta, sei un pochino più piccolo. Eh, io sono un po' più piccolo, sono arrivato un po' dopo. Quindi tappa di Montecampione, dominata dal Pirata, stacca Tonkov agli ultimi chilometri. Non gli rifira un distacco esagerato, però gli consente di arrivare alla Crono di Lugano con un distacco ottimo. E poi comunque la Crono di Lugano la concluderà al terzo posto, quindi fa veramente anche una grande Crono. Quindi conclude il Gio d'Italia con 2012 punti. Siamo al Tour de France. Pantani non doveva andare al Tour. In realtà poi viene un po' convinto, dopo i festeggiamenti del Giro, dagli amici, da Beppe Martinelli. Quindi decide di andare al Tour, ma con zero ambizione di classifica, per provare a vincere un paio di tappe. Cosa aveva già fatto nel 97, nel 95 e nel 94 anche. 94 però non vinse nelle tappe, però arrivò sul podio. Cosa succede a Tour de France? Nelle prime nove tappe se l'è presa veramente comoda. Nelle prime tappe se l'è presa molto comoda. Fa un prologo quasi, mi pare arrivò tra gli ultimi se non erro. Prese parecchio di stacco da Ulrich, però non c'era un'ambizione di classifica. Succede che nella tappa di Luchon prova a vincere. C'era in fuga Massi, quindi sul peresù dell'ultima salita, recupera tutti e passa secondo sul com. Massi rimane davanti e riesce a vincere. Secondo Marco Pantani che inizia a recuperare secondo in classifica. Esatto, però diciamo anche che c'erano poche tappe per scalatori. Quindi anche il terreno per recuperare era veramente limitato. C'erano esattamente quattro tappe difficili su 21. In realtà tre, proprio se andiamo nel dettaglio. E comunque è undicesimo in classifica dopo la tappa di Paul Luchon. La tappa successiva, Plateau de Bale, attacca. Mancavano una decina di chilometri al traguardo. Attacca sulla salita, Ulrich lo lascia andare. Si pensa che comunque Pantani, essendo comunque distante da Ulrich, prende un po' di vantaggio. Non sembra un Pantani pimpantissimo, perché c'era un uomo della Confidissi in fuga che stenta a recuperare, poi lo staccherà e va a vincere la tappa. E sarà quarto in classifica dopo la tappa 11. Poi ci sono un paio di tappe interlocutori dove non succede granché. E poi c'è la tappa leggenda. La tappa leggenda è la tappa numero 15. Grenoble-Les Desalpes. Pantani attacca sul Galibier. Mancavano pochi chilometri alla vetta del Galibier. Attacca inizialmente Luc Leblanc, gli sta dietro, ma giusto per 50 metri, stacca anche Luc Leblanc, recupera uno a uno tutti gli uomini in fuga, scollina per primo sul Galibier, aspetta Imenetz e altri compagni di fuga, tra cui un paio di Confidiss, poi sulla salita finale Le Desalpes stacca tutti e se ne va in solitaria. Cosa succede in questa tappa? Succede che Ulrich inizialmente scollina il Galibier con qualche minutino, e virtualmente Marco è maglia gialla, però Ulrich in discesa prende freddo, si ferma, fora, rissa, dovuta rientrare, e sulla salita finale Le Desalpes crolla totalmente, arrivando quasi a nove minuti sul traguardo. È una tappa storica. Marco Pantani in questa tappa vince, 150 punti, 30 punti del Com, tra Galibier e Le Desalpes, punti fuga 26, e indossa la maglia gialla per la prima volta in carriera. E sarà anche l'unica volta che indosserà la maglia gialla Marco Pantani. Poi, la tappa successiva, Albert Will, Ulrich fa un attacco devastante, attacca sulla Madlen, un attacco impressionante. Rinato. Andate a vedere l'attacco di Ulrich perché è una forza della natura. Marco Pantani dichiarerà dopo che faceva fatica inizialmente a stare a ruota di Ulrich, poi piano piano l'azione di Ulrich si perde. È una fievolita. E quindi Marco comunque giunge al traguardo con Ulrich, staccano Bobby Julic che era il secondo in classifica che poi sarà terzo perché Ulrich torna secondo. Pantani arriverà secondo, 15 punti Com della Madlen, punti fuga 13 e continuando a stare a maglia gialla a 25 punti. Ci sarà la crono finale dove comunque arriva terzo quindi dimostra che a Fulgur come è successo in Giulia Italia anche al Tour de France fa una grande crono finale, 96 punti e quindi mille punti di classifica finale arriva secondo nella maglia di Scalatori, ricordiamo che era di massi la maglia qua, poi viene squalificato e ricordiamo che quel Tour de France purtroppo è anche ricordato per tutte le vicissitudini degli scandali doping, inizialmente Festina, il Tour rischiava di fermarsi, ce l'ha detto anche Martinelli nella live che trovate nel nostro canale, grazie anche a Marco Pantani è stato concluso, è iniziato e è finito perché rischiava veramente di non finire quel Tour de France. C'è l'immagine emblematica di tutti i ciclisti tra cui anche Marco. Seduti sull'asfalto. Quindi, quanti punti ha fatto Marco Pantani nella stagione 1998? 4.350. Possiamo dire che a corso, poi ha fatto un po' di criterium a fine anno, però sono fondamentalmente tre gare, la Bursia, Giro e Tour de France. Quindi con tre gare fatte si sarebbe classificato, prendendo l'ordine d'arrivo del 2021 di Pogac, Pogac e Van Aert, sarebbe classificato dietro questi tre. Quindi sarebbe arrivato quarto nella generale con solo tre corse fatte. Ricordiamo che Pogac a volte al Tour ha corso anche tante monumento. Esatto. Al giorno d'oggi è difficile trovare un corridore che faccia solo e soltanto i due grandi giri. Quindi, fateci sapere nei commenti, innanzitutto se vi è piaciuto questo video un po' particolare, fateci sapere nei commenti che ricordo avete della stagione 1998, se eravate nati, che età avevate e soprattutto se avete vissuto quegli anni lì oppure avete rivisto le imprese del pirata su YouTube o sui documentari. Ragazzi, grazie mille per la visione e ci vediamo presto alla prossima. live. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, arrivederci. Può essere questo il momento decisivo? Io penso di sì, Pantani in mani basse, Ulrich continua a voltarsi, ormai da solo potrebbe partire Pantani, se sta bene parte adesso. Eccolo, di parte parte. ecco parte Pantani, attenzione, l'atteso scatto di Pantani. E non risponde Ulrich. Non risponde Ulrich. Ulrich che aveva già dimostrato che quando scatta Pantani è meglio lasciar perdere. Pantani ha fatto il vuoto. Pantani ha fatto il vuoto quando mancano ancora quanti chilometri alla conclusione? Vorrebbero ancora mancare 5-6 chilometri alla vetta del Galibier, poi dal Gran Pena della Montagna ancora 42 chilometri. Sta andando molto forte Pantani. Marco Pantani sta portando a termine in maniera trionfale questa quindicesima tappa che ci rimarrà nel cuore, nel cervello, perché è stata veramente una tappa splendida. Una tappa nella quale, ripetiamo, Marco Pantani ha dimostrato non solo tutta la sua classe, ma la sua saggezza tattica, il suo cuore, il suo coraggio.